coloro che già conoscono questo canale forse ricorderanno che la cravatta rossa come quella che indosso in questo momento spesso è stata associata ai consueti video di auguri per coloro che invece non conoscessero questo canale vi informo che qui si trattano temi di diritto civile privato privacy procedura news e molto altro se questi temi vi interessano potete iscrivervi e cliccare sulla campanella per essere sempre aggiornati in ogni caso come succede ormai da qualche anno ci tengo a farvi gli auguri qui di persona seppur virtualmente e parafrasando e traducendo una canzone che è un grande classico natalizio nonostante sia già stato detto molte volte e in molti modi buon natale e aggiungo anche buon 2023 arrivederci alla prossima